A lei piace il cavallo? Romagnola, la signora... Ah guardi, io le volevo chiedere una cosa, è un po' particolare. Lei conosce, dato che è appassionato... Non è appassionato, è campione olimpionico mondiale. Beh, è anche appassionato. Sì. E conosce un certo Elmer De Rossi di Bagnacavallo? No, non lo parlo. Chi è Elmer De Rossi? Elmer De Rossi è il marito della gemma di Bagnacavallo. Ci aiuti. Lui è molto amante del cavallo, però è molto vanitoso. Lui, diciamo, sale a cavallo, si fa fare queste foto e vengono benissimi. Infatti la gemma si è innamorata di lui vedendo queste foto. Ma non sa andare a cavallo? No, però lo alta, fa rampante così. Così e basta? Basta, no, non sa andare. Non sa andare, eh. No, volevo dire che questo episodio se l'è capitato di sentire Odi, perché è molto famoso. No, non lo conosce, dice che non lo conosce. In Italia. Non lo conosce. In Italia, non a Roma. E' una cosa che, allora, lui è andato a questo, una settimana fa l'ha portato, la gemma, allo zoo safari di Bagnacavallo. Non sapevo ci fosse, va bene. Infatti adesso se l'hanno chiuso. E allora, lei ha detto, dai che ti facciamo fare una foto, non c'è un cavallo, no, i cavalli... No, lo zoo safari, il cavallo non c'è. Eh no, però dopo... Ma ha detto, guarda, c'è una zebra, perché la gemma, vedi anche dietro, come le mosche. Eh sì. Ha detto, guarda, c'è una zebra, dai, sali sulla zebra. Ma no, non è come il cavallo, ma è come la bicicletta, una volta che sai andare, cavallo, zebra, è uguale. No, ha ragione, mi era fatto bene non andare. No, ha detto, ma dai, vai, sali, ha insistito. Lui è vanitoso, dai che sembri, sembri Napoleone. È Napoleone, sì. E allora lui, ma io non so andare neanche in bicicletta. No, ma dai, ma... L'ha caricato. La moglie lo ha caricato. Lui se lo carichi vada per tutto, è montato su. E dopo ha detto, dai, vai più indietro, che sei eroico contro la... C'era una siepa e lei ha detto, c'è la foresta dietro. Lui ha arretrato, arretrato. Poi si è sentito come un miagolio. Un po' più forte. È saltato fuori un leone. Miagolio, un ruggito. Sì, era un tipo miagolio. Miagolio. Allora, il leone con la zebra non c'ha sta simpatia proprio da dire che gli piace. Una povera bestia. Una povera bestia, però per il leone, Elmer o la zebra è uguale. Lui quando ha fame non guarda in faccia nessuno. E allora? È saltata addosso alla zebra. Fortuna c'era Elmer, ha preso Elmer. E' saltata via. No, ma dovevate vedere la zebra come una gazella scappata. No, le cose belle sono che la zebra si è salvata. Perché in fondo non si possono battagliare. E' uno dos safari. E certo. Ecco. E poi dopo? La foto. Come è venuta la foto. Anche Elmer avrebbe detto, è valso la pena solo per la foto. Non dico altro. Anche Elmer avrebbe detto, è vero. Anche Elmer avrebbe detto, è vero. Anche Elmer avrebbe detto, è vero.